Possiamo sapere la differenza tra la Serie A e la Serie B? No, non si può sapere. La differenza tra le parole che si fa di Serie A e la Serie B? No, non si può sapere. No. Ti fai conto che da 16 anni hai iniziato nel professionista? Basta, allora ci... No, è Serie A. Aspetta, se professionisti proviamo a capire anche Lega Pro... No, dai, Serie A, Serie A, la risposta è Serie A. Per me è Serie A. Prenota di mano. Devo assumermi una responsabilità. Sì. Serie A. No. Risposta sbagliata. Sì. Non si possa credere. No, è giusto. È giusto? Ah, è giusto. Ah, ecco, cioè... Ma è giusto. Sto fattumando che sarebbe io.